Controlli a tappeto serali nella città di Barletta, un weekend che si apre all'insegna della sicurezza con la presenza del sesto nucleo elicotteri dei carabinieri che sorvolava la città e militari dell'arma che a piedi svolgevano servizio di prossimità anche in occasione dell'inizio della celebre disfida di Barletta. Durante le operazioni definite ad alto impatto, i militari hanno identificato più di 130 persone e controllato 65 autovetture. Molteplici sono stati anche controlli effettuati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ai sorvegliati speciali di pubblica sicurezza. Non sono mancati nel corso del servizio controlli al codice della strada, 10 le sanzioni elevate ad autisti indisciplinati. Non sono mancate anche le perquisizioni personali e veicolari nel corso delle quali sono state segnalate due persone per uso personale di stupefacenti. Il personale del NAS ha invece eseguito un'attività espettiva in un locale elevando una sanzione amministrativa di 1.500 euro e sequestrando 15 chili di prodotto ittico. Il servizio di alto impatto svolto dai militari dell'arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane anche nei restanti comuni della BAT.